Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale, nuova live reaction, ragazzuoli, ve l'avevo promesso, quest'anno vi avrei portato con me in trasferta, Bologna Inter si va in trasferta, si parte adesso, sono le 11 di mattina da Milano, si arriva più o meno intorno all'orario di pranzo a Bologna, un bel pranzo tutti insieme con i miei amici e poi si va al Dallara ragazzuoli, ve l'avevo promesso che quest'anno una trasferta vi avrei portato con me, è la mia prima trasferta, è la mia prima volta che vedo una partita dell'Inter che non sia a San Siro, quindi inutile dirvi che sono straemozionato e stracontento e penso che me la vivrò bene al di là di quello che possa essere poi il risultato finale, al di là di quello che sarà il risultato finale, comunque Bologna Inter è una partita importante, andiamo a vedere una partita comunque bella sicuramente, che ultimamente ci ha fatto un po' disperare il Bologna e Tiago Motta, quest'anno siamo usciti dalla Coppa Italia proprio contro il Bologna, l'anno scorso abbiamo perso, insomma abbiamo un po' da vendicare a questo Bologna, poi inutile, impossibile dimenticarsi la partitaccia di due anni fa con l'errore di rato, quindi insomma andiamo a Bologna anche un po' per vendicarci, sicuramente sarà una bella partita, ragazzuoli io però veramente sono contentissimo, cioè sono contentissimo di portarvi con me in questa mia prima trasferta e niente, cioè sono proprio un fiume di emozioni oggi, sono veramente contento e come detto penso che me la vivrò benissimo al di là di quello che poi sarà il risultato, poi stamattina dico così, poi non lo so, andiamo a vedere come andrà a finire, comunque no veramente, sono contento che la mia prima trasferta la faccio insieme a voi qua sul canale, e niente ragazzuoli, intro un po' più lunga perché appunto volevo condividere con voi queste mie emozioni, magari oggi il video sarà anche un pochettino più lungo del solito, magari uscirà una sorta di mini vlog, non lo so, ci penserò durante il viaggio, comunque direzione stadio Renato dall'area di Bologna, Bologna-Inter, partita fondamentale per il campionato, ragazzuoli come al solito, solite raccomandazioni a voi, iscrizione al canale, mi piace, condivisione dei video, follow su Instagram, su TikTok, niente, basta, intro lunghissima, più lunga del solito, niente, adesso si va in macchina, autostrada, direzione Bologna, forza Inter! Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. Giro l'Italia per te, sognando di nuovo il tricolore, perché l'Inter è il nostro vero amore, e da una pupa un paro si alzerà, ma sarà il giudice internazionale, io te lo canterò ogni momento, quando scendi il campo, la maglia che ti indossi, io quello stai mavero molto leggo, Io l'Italia per te, sognando di nuovo il tricolore, si attendono di nuovo il tricolore, e da una punta, il tricolore è il nostro vero amore, e da una punta, intitusi, io lo faccio, io quello troppo Commenti? dai 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 no non ci credo era buono era buono che cazzo ha sbagliato che cazzo ha sbagliato sì che era tutto buono no non ci credo cazzo ha sbagliato però no mamma mia bravo sommer bravo ora stiamo un po soffrendo occhio 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 ragazzi cazzo ha sbagliato grazie grazie un po' il primo tempo No, 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 mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che occasione, minchia che occasione loro, cazzo, minchia ragazzi, sveglia, teniamo, teniamo, cazzo, mamma mia, vai cazzo, fischia. Dai cazzo, dai cazzo, dai cazzo, dai cazzo, dai cazzo. ieju 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.